Non solo i ristori per i mancati introiti dovuti al Covid, il cui arrivo dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Per l'autorità portuale, dopo le tante lamentazioni degli ultimi tempi, arrivano finalmente buone notizie sul fronte economico-finanziario. La più recente, ma non l'ultima, come vedremo nei prossimi giorni, riguarda l'ennesima vittoria davanti ai giudici amministrativi contro il ricorso presentato dalle grandi compagnie crocieristiche, alle quali risulta indigesta l'applicazione della tassa sui diritti d'uso, introdotta nel 2018 dall'allora presidente Di Maio e immediatamente contestata. Con sentenza numero 12.665, pubblicata il giovedì scorso, la terza sezione del Tar del Lazio ha infatti respinto un nuovo ricorso presentato dai colossi del crocierismo. Il primo era stato proposto dalle compagnie crocieristiche all'indomani dell'applicazione della nuova tassa, varata a fronte dei costi marginali che il traffico delle crocelle determina per l'ente portuale, chiamato a fornire servizi generali aggiuntivi. Allora la Roma Cruise Terminal e le compagnie soci, Costa Crociere, MSC Crociere e Royal Caribbean, oltre alla CLIA, ovvero l'associazione che raccoglie le grandi imprese del settore, misero in dubbio la legittimità della decisione assunta dal Comitato di Gestione presieduto da Di Maio. Il Tar accolse solo parzialmente il ricorso perché la decisione non era stata preceduta da una preventiva discussione all'interno dell'organismo di partenariato, o vale a dire il parlamentino dell'autority composto dal cosiddetto cluster portuale. Ma nel giro di qualche settimana il passaggio in sede di partenariato con tanto di approvazione del provvedimento venne effettuato e la tassa continuò ad essere applicata. Le grandi compagnie cruceristiche, nell'attesa di conoscere il pronunciamento del Consiglio di Stato, al quale avevano presentato ricorso dopo il NET del Tar, si appellarono nuovamente a quest'ultimo, mettendo in dubbio l'iter seguito in sede di organismo di partenariato. E nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale ha parzialmente rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso, dando quindi ragione all'autorità portuale per i provvedimenti assunti tre anni fa. Nell'attesa che arrivi il definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, i diritti d'uso che i cruceristi devono pagare a Civitavecchia restano quindi pienamente validi e Molo Vespucci può continuare a far conto in bilancio su una cifra che a fronte delle stime sui turisti previsti nel 2022 dovrebbe essere superiore al milione e mezzo di euro. E non finisce qui in tema di buone notizie sul fronte economico-finanziario per lente.